Siamo presenti con tre massi, di cui una o una a cinque assi, diciamo versione rotto basculante, una versione riaggiornata della nostra montante mobile più grande che era Leonard, noi presentiamo un magazzino canto utente nuovo di Zecca e un'ergonomia nuova per facilitare il cliente a lavorare, a poter successivamente. Oltre a queste due che sono i fordini della linea Remaconto, presentiamo la prima struttura della linea Fresatrici che la Remaconto dalla Non-Costro metterà sul mercato e che è il risultato dell'acquisizione del marchio e dei progetti della Deber, essendo un'azienda storica italiana che ha chiuso per le problematiche sue. La macchina che presentiamo qui, dove dalla parte male esteriore sembra ancora uguale, è stata rimodificata nella sua struttura di supporto della tavola, è stata cambiata la carenatura per permettere all'operatore di avvicinarsi il più possibile al banco, perché è una macchina da un metro, problemi nel fatto di ergonomia, perché cominciavano ad essere macchine grandi, però sono macchine talmente flessibili che i nostri clienti, sì che comprano anche da un metro, ma preferiamo fare anche i pezzi a 100 mm, o ci dicono, ma 100 mm è scomoda, un metro va bene. Allora abbiamo ristudiato un po' il sistema, presentando questa nostra struttura cabina, diciamo, fatta in un modo diverso che permette di essere avvicinati al piano. Grazie a tutti!